Io ho prospettato una necessità, è un problema. Roma durante l'anno 2000 riceverà molti milioni di pellegrini da tutto il mondo. Mi sembra che conciliare il pellegrinaggio con una campagna elettorale, che sarà una campagna elettorale come sempre molto partecipata, mi sembra che ponga dei problemi, dei problemi seri e quindi vanno affrontati. Ho suggerito anche l'ipotesi di spostare le elezioni al termine del giubileo, ma rimane comunque il problema di come conciliare due eventi così rilevanti.